Ma avete mangiato voi? Io ho mangiato le tagliatelle che mi sa che mi fermo a Bologna con tutte queste tagliatelle. Il mistero del vescovo soprattutto è quello di un padre ma è anche quello di essere un fratello. Io adesso sono qui e mi metto la cosa seria, mica sta roba a faccia. Restiamo umani non restando fermi ma facendo il salto nell'altro. La solidarietà è buttarsi a mare se uno sente che ci sta un bambino che sta affogando. Punto. Alta Merini avrebbe detto abbracciami così siamo interi. Le istituzioni devono rispondere a questo accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Voterò per il Partito Comunista l'unico che possa dare al popolo il benessere e giustizia sociale. Lo posso avere la soluzione? Chiese Peppone. Non ho pagato l'albergo. Non ho pagato gli extra dell'albergo. Non ho neanche pagato l'albergo. Quanti vuoi che si pagano gli extra? Siamo circa 400 giovani che già hanno iniziato una presenza in alcuni dei quartieri più poveri della periferia di Roma. Io sento in Vaticano molti papataci, papataci. Sì, ma noi dobbiamo cambiare la prospettiva. Essere, un verbo, il verbo. Vescovo è un verbo presente. Il capo dei Gerundi, reverendo Matteo Zuppi. Il contrario della paura, a mio parere, comunque non è il coraggio. Il contrario della paura è sempre l'amore.